ciao a tutti ragazzi ciao sarà allora dato che io sono su fortnite grazie a sarà che qua con me adesso questo mese le regalerò il pass battaglia grazie eccoci qua perché se non era per lei se non fosse stato per lei io non sarei qua a giocare a questo gioco appunto allora sac don al pass battaglia adesso ti devo trovare nella lista ci ho trovato subito invece ecco è ci sei sei pronta a vedere le nuove skin tac dovrebbe arrivarti tra poco invio regali in corso i tutti i tuoi regali sono stati consegnati come sono vabbè gente giovanese figo vai avanti vai avanti a vedere le altre c'è ma c'è pure lara croft sono molto meglio secondo me poi c'è lara croft 25 sì che è modificata poi c'è tarana che non so chi sia tara un'altra tarana figo però sono più belle di quello strato è brutto però bella però sono carine con questo coccodè cos'è coccodè questo coccodè succoso ah sì c'è anche corvina che quella di team titans figo madò di titans di supereroi allora ti è piaciuto questo regalazzo sì grazie sono felicissima benissimo dai allora adesso a sto punto possiamo andare a giocare saluta che figo gli iscritti del canale andiamo a giocare che li devi prendere scappiamo nel gioco ciao a tutti ciao ciao per questo video è tutto ragazzi iscrivetevi al canale e buon divertimento ciao 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 ciao